Chubby Bunny, una sfida apparentemente innocente, ma in realtà pericolosissima. La cosiddetta sfida Chubby Bunny può sembrare un passatempo innocuo, ma è tutto il contrario. Consiste nel riempirsi la bocca di marshmallow cercando di pronunciare le parole Chubby Bunny. Chiunque abbia un minimo di buonsenso sa che riempirsi la bocca a tal punto blocca le vie respiratorie, creando un rischio altissimo di soffocamento. Eppure, nonostante questi pericoli chiarissimi, abbiamo visto Chiara D'Alessandro, Davide Norimberti e il bombonsito cimentarsi in questo gioco nel loro ultimo video. Un gesto irresponsabile e scioccante, che non dovrebbe mai essere portato online. Perché? Perché questo tipo di contenuto è pericoloso, irresponsabile e da un esempio sbagliato e altamente rischioso per chiunque lo guardi, specialmente ai giovani e ai bambini. Non fatelo, non imitate le sfide pericolose di chi, come Chiara D'Alessandro, Davide Norimberti e il bombonsito, si lascia andare a queste stupidaggini per ottenere views. Chi ha visibilità e influenza dovrebbe sapere che non è solo un personaggio pubblico ma anche un esempio, soprattutto per i giovani che potrebbero essere tentati di imitare questo tipo di sfida. L'assenza totale di buonsenso mostrata da D'Alessandro. Norimberti e bombonsito nel realizzare e condividere questo video è una dimostrazione di quanto a volte la ricerca di visibilità e successo possa portare a scelte dannose per la sicurezza degli spettatori. Chiara D'Alessandro e i suoi compagni di video scelgono davvero di condividere contenuti che possono incoraggiare gesti pericolosi e mortali? Davvero non si rende conto del danno che può causare? O la loro fama di popolarità supera ogni attenzione per chi li segue? Siamo di fronte a un comportamento che mette a rischio non solo loro stessi, ma anche chiunque possa cercare di imitarli. In un mondo in cui gli spettatori più giovani sono attratti dai contenuti online, è più che mai fondamentale che i creatori di contenuti, come Chiara D'Alessandro, Davide Norimberti e il bombonsito, si assumono le proprie responsabilità e trasmettono un messaggio di sicurezza, non di incoscienza. Non lasciatevi ingannare, questo video non è divertente, non è sicuro, e non dovrebbe mai essere preso come esempio.